Grazie Marilo, perché l'inglese c'è un po' di due, quindi non parlo bene l'inglese. In realtà siamo venuti, grazie anche alla conoscenza di Malighetti, professore che è venuto da noi a fare un grande discorso. Io avevo fatto quel master, anche il suo nome l'ho trovato in cinese, ma l'inno in cinese sono molto contento di essere qua con te. Ecco, innanzitutto la premessa, forse cento anni fa circa, Wang Mimin, un professore, stamattina diceva che io ne avrei parlato. Sì, mi sono un po' preparato. C'è un motivo per cui ho volato 24 ore per arrivare qua, non è soltanto bere vino con il professor Malighetti. E anche per dire, cent'anni fa, nella dinastia Guangxu, nel 1906, c'era un personaggio, Te Hunzi, una specie di diplomatico cinese di allora, Tardo Ching, che ha mandato nove suoi cortigiani importanti funzionari mandarini per imparare dall'Occidente. E nel suo diario, in Italia, ha avuto questo tipo di... è stato in Italia, a Milano, e tutti quei funzionari sono venuti, dovevano venire, e scrivevano questo. Dicevano, nei suoi occhi, Milano di allora era un grande centro, non leggo i dettagli, ma un centro molto sviluppato. Questo si chiama Chu Shiqiu, diario dei visite diplomatiche in nove nazioni. Poi, un altro personaggio, Kang Yovei, molto importante, anche lui nel 1904 è arrivato qui, a Milano, rispetto all'Italia. Lui aveva un altro punto di vista sull'Italia, forse ha incontrato più difficoltà, ma l'Italia che lui ha conosciuto, gli italiani non parlavano inglese. Chi parlava in inglese c'era una società, era divertente, sembrava tipo Eurobus, una società tipo Eurobus, qualcosa del genere, lo chiamava Ku come pianto, come la società che fa piangere. Non so perché l'ha chiamato così, pianto. Non so se è Ku, il nome di una società italiana di allora, però questi intellettuali erano piuttosto divertenti. Cinesi hanno nominato la società che li ha aiutati come pianto. Lui ha descritto Milano come una città particolare. Lui ha preso da Roma una macchina impegnando 18 ore, 100 anni fa, per correre macchine da Roma a Milano. E allora Milano in cinese lo chiamava Orchidea Bella a Meilan e le strade ordinate, tanti affari, piccola Parigi veniva chiamato. Quindi potete anche leggere, è molto lungo, decine di miliardi idogrammi. In realtà oggi non c'entra molto con questo direttamente, ciò che io vi farò rapporto, ma indirettamente sì. La questione del terreno per me è un argomento caro da molto tempo. Una decina di anni fa ho cominciato a dare attenzione a questo tipo di tematiche, perché io vengo dalla legge, da antropologia legale, dai conflitti, risoluzione dei conflitti su questa tematica del terreno. In Cina in realtà, soprattutto in Occidente, non è come si pensa in Occidente. Il diritto di proprietà in Cina è molto regolamentata, molto chiaro, non ci sono errori. In Cina però è molto complessa la regolamentazione, molto difficile da spiegare anche. Oggi però, quello che è più difficile da affrontare in Cina è proprio la questione sul terreno. Tanti contadini hanno problemi nel perdito del terreno e tutto lo sviluppo cinese c'entra con il terreno. Senza il 1983, la riforma del terreno, non ci fosse il Deng Xiaoping che aveva distribuito la terra alla gente, non ci sarebbe stato lo sviluppo odierno e quindi è molto particolare. Non so come dire che c'è stato un rapporto con la politica molto importante e quindi in realtà il terreno cinese è sempre da inquadrare sulla logica del terreno in generale. Osserviamolo dentro un background più grande. In realtà l'occupazione di un terreno dell'uomo è una situazione che è legata al tardo sviluppo dell'umano. Tutti voi europei sicuramente lo conosciete bene il russo e lui aveva detto questa frase. Per cui i cosiddetti solvaggi nobili hanno delimitato una zona, una terra e hanno detto questo ci metto il mio nome creando il diritto e proprietà. In realtà secondo lui questo è un punto di partenza per il degrado dell'umanità e non l'inizio di una civiltà. Su questo molti accademici si sono dimenticati di questa frase di Elusso, hanno sempre utilizzato questione di Ques che ha fatto un'indagine invece sul diritto di proprietà ma il suo pensiero in Cina di Ques non è adatto alla situazione cinese. Non ripeto alcune tematiche che si sono già trattate ma nella storia dell'implementazione e della raccomandazione sul terreno in Cina noi vediamo che non è che ci distacchiamo molto dagli europei per esempio il concetto della proprietà terreno esiste da tantissimo tempo. Il cosiddetto terreno comune oppure dei propri antenati, dei propri avi esiste. Il terreno che diventa un diritto di proprietà come oggi lo intendiamo property esiste in Cina da pochissimo tempo. Per la maggior parte del tempo invece c'è stata una collettività piccola che l'ha utilizzato insieme quel terreno chiamandolo in ogni modo zutien, itien o degli avi zutien o con tien, insomma tantissimi concetti e termi ma il significato retrostante è occupazione pubblico che non è civil society, è un pubblico molto privato in realtà di un gruppo per esempio di un villaggio, di una famiglia che lo occupa. Non è come lo intendiamo oggi, se usiamo l'idea del civil society per capire questa situazione cinese avremmo sbagliato incontrando diversi problemi. Ecco perché questo tipo di teoria non entra in Cina perché in realtà in Cina nella società come si è organizzata è sul privato si è organizzata, non si è organizzata sul pubblico nel passato. Se gli occidentali non comprendono questo passaggio importante e cruciale, allora rispetto alla base privata su quale si è sviluppata la cultura cinese, allora siamo da punto a capo. Anche se ci chiamo Republic of China, Repubblico Popolare Cinese, comunque anche se è pubblico ma è molto difficile sul tema del terreno diventiamo pubblico. Non è stato questo. Questo è un punto, non che dico che sia male o brutto, ma qui sta la contraddizione. Negli anni 30 e 40 un grande professore, signor Lin Yuehua, nel 1947 aveva scritto nel suo famoso libro Golden Wayne, un romanzo in realtà antropologico, Ali d'Oro, molto famoso questo libro, e chi studia antropologia in Cina conosce questo libro, racconta di un terreno, un terreno degli avi, che ha sviluppato, ha svolto una funzione estremamente importante nelle attività collettive di un villaggio Huang, nella provincia di Fujian. Questo tipo di terreno era per colline, per chiamare, non era per lavoro, era radunare, simbolicamente era importante per la collettività e non aveva solo un significato economico. Questo è il significato che vorrei trasmettere. Qui io dico che è una situazione anche di reciproca guadagno, interesse, perché tra il terreno che è personale e il terreno che invece è della comunità c'è una relazione reciproca, per cui in molti villaggi c'è sempre un monastero che ha un terreno, perché è assolutamente che debba esistere, perché si creano dei scambi. Quella terra lì, se si coltiva, non c'entra con la tecnologia, c'entra in loro fede di quel villaggio. E quindi questa logica di reciprocità dell'interesse è molto importante, perché è ben diversa invece la logica dello scambio, come noi moderni siamo abituati. Su questo tema, quindi, se non si conosce bene il background della Cina, si entrano tutti i problemi vari che gli antropologi cinesi, anche storici, sociologi, economisti, anche alcuni politici cinesi entrano invece. Cioè si continua a dibattere in che direzione si va in Cina. In realtà la questione di base è che siamo partiti dal privato e dal pubblico. È semplice la divisione. Ci sono punti di vista diverse e cause che vengono citate molto diverse, ma molto evidentemente si vede che c'è una parte che ha più ragione dell'altra. Cioè su questa questione una parte pensa che il terreno oggi attraverso i 30 anni di Changbao a contratto è diventato molto frammentato e quindi bisogna raccogliere per trasformare in una grande società, una grande corporation o una collettività più grande ancora che lo organizza. E quindi i contrattini tu dovresti lasciare le terre, dovresti entrare nelle città e attraverso altri capitalisti e cosiddetti gestiscono management di questo terreno e quindi urbanizzazione. Wang, professor Wang aveva detto che l'urbanizzazione si passa al 51% di percentuale, però per favore non credete a questo numero come 100% preciso. Il livello d'acqua, come si dice, falsità è molto alto. Guardate dentro i dati dove si è creata urbanizzazione. Spesso il direttore Wang dice dentro Kashgar. È vero, lì è 40%, cioè nella velocità di promozione non è ciò che la popolazione e la massa accetta interiormente e quindi ci sono tante realtà che si possono poi arrivare con logica e quindi in questi studi contemporanei ci sono delle satire che si fanno, rapporti satirici. Il nostro governo sta in questo momento abbandonando la campagna, lasciando i contadini che lasciano le loro terre, non devono più pagare le tasse, alcuni possono lasciare le terre, però alcuni contadini che non possono lasciare e devono, il governo attraverso lo scambio sulla terra, quindi attraverso la divisione delle terre, fa sì che si entri in un mercato per cui i contadini alla fine diventano cittadini delle città. Una notte un contadino magari si trasforma attraverso in questo modo diventa cittadino, metropolitano, però con questa forma qua non è come in occidente si è percorso la cosa, è tutto work in progress e gli studi che si fanno oggi sul terreno è più divertente ancora sui dieci anni fa perché ci sono troppe resistenze più che accettazione. Ovviamente le resistenze arriva dai contadini, è di tante zone in periferia, adesso non entro nella polemica, però sicuramente si continua a mantenere un certo tipo di occupazione collettiva, villaggistica nella realtà cinese e oggi verso la liberalizzazione occidentale sono queste due direzioni. Io penso personalmente che in questa situazione dobbiamo fare attenzione che nel processo, anche se non possiamo bloccare l'inurbamento, ma dobbiamo osservare con freddezza se le società cinese veramente dopo l'inurbamento allora la Cina diventa moderna ed è vero la Cina del futuro. Andando a Como o altre zone dell'Italia vedo che questo paese come vostro è sviluppato industrialmente, comunque la compagna rimane con il suo gusto, con della gente che ci vive. Penso che la doppia formazione non diventi mostruosa perché si crea in un sviluppo se si lascia la doppia presenza, però si creano anche tanti problemi perché io penso che chi ha studiato il deserto ci ha detto dei colleghi che forse in Cina, nella Mongolia interna, la desertificazione il nostro governo, gli economisti dicono che questo è dovuto a eccessivo pascolo, cioè troppe pecore, troppi bovini e quindi i contadini non hanno più terre e bisogna bloccare il pascolo facendo sì che in quelle zone di pascolo non possono più vivere una loro vita cosiddetta libera da nomadi, però in realtà i veri antropologi ci dicono che se osservi profondamente e lo inquadri in 100 anni di storia o 200 anni di storia osservi che la desertificazione è proprio sono i Han che sono arrivati dopo il 2000, dopo un certo dato rispetto ai sovietici dopo si è portato un'immigrazione per mantenere la produzione anti-russa e quindi tanti Han che sono andati a lavorare come agricoltura, voi pensate che i Han sanno fare pascolo? Ovviamente no e quindi hanno continuato a massificare la produzione agricola creando in realtà poi la desertificazione, vedi che poi il problema è che non troviamo le radici dei problemi, cerchiamo soluzioni veloci per trasformarle nella realtà ma creando degli risultati peggiorativi. Quindi in questa situazione abbiamo punti di vista diversi ma in questa situazione non è chi ha ragione e chi non ha ragione è questione di diritto e potere, chi parla per chi? In Cina in questo momento chi parla non sono antropologi, non sono sociologi certo che non sono neanche politici, studi di politici, sono economisti, non è detto chi ha ragione e chi no è questione di relazione tra il potere e sempre sarà così. In passato, in passato, Fei Xianxian, signor Fei, molto famoso lui nel sociologo, lui quando parlava sicuramente influenzava altre cose cinesi ma oggi noi non abbiamo questo tipo di personaggi di questa calibratura e sicuramente nella forza del potere, nelle relazioni di potere siamo purtroppo rispetto all'occidente quindi io penso che nel background ci sia un po' di diversità nella questione del diritto di proprietà è così, è una politica oscillante perché non c'è una razionalità, uno dei modelli, dei principi che possono convincere tutti in occidente per esempio molto tempo fa hanno detto noi passiamo sulla strada della privatizzazione completamente sul terreno che sia la casa, dovunque si trovi, chiaramente noi segniamo il tuo territorio, dove finisce, lo catacologhiamo da noi no, da noi è impossibile farlo, non ne si è mai fatto questo, noi sul terreno lo teniamo come una specie di riforma fama e quindi come un simbolo oggi ci si conferma continuamente perché dietro esistono delle motori economici di ridistribuzione delle ricchezze che sono motori dietro, quindi la seconda ridistribuzione della ricchezza che c'è nata in Cina, quindi ovviamente qui poi si tirano fuori una serie di questioni sulla politica strutturale cinese ma io penso che è comunante in tante parti, noi pare che siamo sempre tra privatizzazione o per pubblico proprietà tra queste estremità cerchiamo o scegliamo, ma in realtà non è una roba degli moderni, giù già i confuciani hanno avuto tutta questa influenza e a partire da 2000 anni fa hanno già confermato una base, hanno creato fondamenta chi legge cinese può leggere i libri antichi, sono stati sempre creato un recupero di quel sistema di pozzi e campo agricolo quindi in passato lì c'era il pozzo, c'era il campo agricolo, la gente poteva costruire, fare delle coltivazioni pubbliche condivise e rispetto alla privatizzazione quello era un'antica forma, però certo una reazione viene considerata reazionaria oggi però se si passa da un estremo all'altro, diamo importanza alla privatizzazione oppure diamo importanza alla proprietà pubblica siamo continuamente a oscillazione e dobbiamo tenerne conto di questo movimento parlerò di un caso concreto, intanto guardiamo nel mio tesi dottorato in un libro ho toccato tanti casi che c'entrano con terreni, questo è Power and Justice e sicuramente sono temi che sono relativi a quanto ho indagato guardiamo adesso il caso del villaggio che ho studiato questo villaggio in realtà è molto vicino a Pecchino, a 200 km verso il sud e Zhao Xian, questo è il nome del posto, a est c'è Nan Zhuang, io lo chiamo Li Sun, lo chiamo il rossino Tizio Kai come Tizio Li allora in questo posto in realtà l'economia è grazie al pero, coltivazione vedete che nel nord della Cina si costruisce molto in questa zona del pero e nello stesso tempo però sotto il bosco si coltivano altre cose e nel lavoro sacrificante sicuramente la popolazione rispettivamente loro sono piuttosto, è una zona d'opera concentrata e molto faticoso per far venire fuori le pere qui bisogna spruzzare le sostanze fertilizzanti ed eccetera io sono stato qui vicino a Olanda, in Olanda, sempre in una storia d'Europa sono stato per un anno, ho visto che in campagna i contadini vivono in un modo rispetto ai miei cinesi, dei contadini, completamente diverso è difficile arrivare a una specie di contadini, sì contadini olandesi ma un contadino olandese ha delle capre, un sacco di terreno è sufficiente per autosostenersi, invece in Cina, nel nord della Cina è molto difficile avere questo tipo di vita questo è il mercato, questa è la scuola del villaggio è anche abbastanza degradante, in Cina si creano delle situazioni del degrado, quelle sono questioni scolastiche quindi non la tocco, però qui questa è una lapida degli antenati in ogni villaggio c'è la memoria dei primi del villaggio i contadini che sono arrivati, sicuramente in ogni villaggio c'è una determinata zona dove è pubblica l'area il terreno che è intorno qui è pubblico, è della zona e i proventi vengono usati per ricordare gli antichi per festeggiamenti e manifestazioni e anche gestione, anche c'è un boffa e fa parte di questo tipo di sacrificio e rituali il cosiddetto dio del villaggio perché ci sono conflitti che c'entrano con queste cose del genere perché tu vedi che c'è il dio, la divinità del luogo ha due parti di corpo, dove indico io piccolo, sulla destra in realtà è una sua duplicazione, il suo rappresentante è una divisione sua, cosa serve la parte più piccola? ogni anno quando si va a definire i limiti la delimitazione della zona ogni 15 ottobre del calendario cinese lunare il piccolo viene portato fuori e lungo il confine del villaggio si fa una camminata e si dice qua, guarda, il nostro confine finisce qui quindi il cosiddetto diritto di proprietà non è quello che si intende nel legale è nella loro concezione mentale del villaggio quindi in realtà possiamo utilizzare del professor Fisioton una sua idea ovvero concetto perché quando si parla di terreno si parla di società cinese in realtà è perché la società cinese nelle sue caratteristiche generali è legato strettamente al terreno quindi strutturalmente la società cinese è agricolo earthbound in cinese earthbound vuol dire, diciamo in inglese vuol dire relazione forte tra terreno e uomo e quindi quando sei vivo tu lavori sopra il terreno quando muori deve tornare al terreno in passato con i migrati overseas quando sono anziani tornano in Cina piuttosto muoiono dentro la propria casa ma devono tornare qui, là oggi per non moderni è un po' difficile da comprendere per noi ci basta dormire morire su le lenzuole bianche dell'ospedale ma per gli cinesi contadini per qual cultura è brutto è proprio terribile sentire di morire fuori dalle proprie origini e quindi oggi anche è molto presente se in questo villaggio si deve andare in bagno se deve andare in toilet piuttosto cammina per la strada in un mercato deve correre in casa questi sono feci feci umane che le lasci nel proprio terreno nel proprio campo agricolo per nutrire terreno e quindi questo tipo di relazione così stretta tra l'uomo e il terreno è una cosa della cultura cinese molto intrinsica e molto particolare non è una cosa che è legato all'interesse economico reale oggi questa cosa spesso bisogna riguardare la cosa con altri valori con altri schemi di valore perché se guardiamo i problemi che derivano dai contadini deve guardare l'importanza dei valori di una volta che è rimasto ci sono due quindi monasteri che sono importanti quello del terreno del Dio della Terra che gli aiuta alla produzione economica perché se tu non servi bene questa divinità ogni anno è difficile mantenere una base economica l'altro monastero qual è? Tempio è quello del Vecchia Madre la Vecchia Madre è tipo per la fertilità che si occupa della fertilità quindi se tu spesso lo vai a pregare allora ti dà la possibilità di procreare discendenza è così importante per voi la discendenza non penso mi unisco con una persona e facciamo figli questa è come la pensiamo a noi non come la pensano a loro se tu pensi quando oggi i cinesi i contadini adesso che non pensano più così quei contadini che non pensano più non fanno più figli non tutti non riescono a fare figli la percentuale sta scendendo di fertilità e quindi nell'inconscio il cambio di mentalità sta anche influenzando il loro rapporto sulla vita e sulle fondamenta di questo non so se riesce a passare io credo che oggi abbiamo questo tipo di problemi non si può non toccare questo earth bank questo tipo di legame questa separazione di un legame primordiale quindi Fischio Tone come il professore aveva trattato questo tipo di società tre cose sono importanti uno è Usung quindi in una società di questo tipo di persone non c'è in realtà conflitti non si va a cause legale praticamente non si passano a quella prassi perché il legale si spende devi spendere soldi per processi nelle società agricole si evita evita il problema l'altro è power of gentleman ovvero in questa società qua piccola società si cerca chi ha cultura una certa cultura una certa conoscenza che ha dei legami con l'esterno conosce un sacco di persone sono dei capaci che loro sono i shen chuan ecco questo è il terzo è la questione delle riti le regole dei riti della cortesia che controlla che gestisce quindi non è legale ma le regole e i rituali nella campagna quindi questo è un gentleman un elite diciamo che nelle loro case spesso bisogna in questo villaggio deve essere il più ricco magari non è non è in realtà nel conflitto nel reddito più alto deve lasciare però come immagine nella gente che la sua casa sia migliore che anche la sua allestimento deve essere più moderno magari più lussuoso non tanto di gusto però senz'altro lussuoso deve essere anche più di moda per esempio quando si usa legno usarà anche il legno poi a casa sua deve avere una televisione più grande di tutto il villaggio perché questo è molto importante per lui perché sicuramente lui tutti i giorni beve e non guarda mai la televisione però lo stesso è molto importante per lui avere la televisione più grande del villaggio soltanto così può ottenere del supporto dei suoi sudditi perciò ha una sua logica particolare in queste cose perché soltanto lui vuole dare ai popoli anche il popolo vuole poi beneficiare lui abbiamo ancora un po' di tempo che possiamo parlare delle problematiche che ho incontrato del terreno le mie riflessioni personale parlerò dei tre esempi tre casi prima di tutti sulla disputa sulla divisione del terreno deve essere collettivo oppure proprietà collettiva oppure se deve essere occupato del villaggio oppure altro che dopo un certo periodo deve essere ricondiviso ogni quanto deve essere diviso questo dipenderà poi dal popolo magari ogni 30 anni magari ogni 20 anni altri magari ogni 10 anni perché la popolazione è cambiata magari in una famiglia ha 10 ettari però ha tantissime persone magari sono nati altri figli perciò in quel caso lì ha troppo terreno per loro invece altri famigli magari ha prima 10 ettari però ha 10 figli perciò sono suddivisi tutti i tratti loro perciò non è più sufficiente per loro perciò anche questo è un esempio importante secondo è la proprietà del terreno se deve essere chiaro oppure deve essere ambiguo perché in nostro villaggio in nostra campagna cerchiamo di rendere questo concetto più ambiguo e terzo che i contadini devono essere possessori del terreno perché oggi è diverso dopo 30 anni di esperienze abbiamo visto che i contadini sono diventati latifondisti che è una cosa che all'inizio loro erano contrario però loro stessi sono diventati latifondisti perciò anche Max aveva detto che si è creato e proprio possa alle fine e questo punto è anche molto importante possiamo vedere questo molto frequentemente giorno d'oggi potete anche leggere in inglese questo caso tutti questi elenchi che ho elencato sono con la discussione proprio di ogni villaggio hanno definito come deve essere definiti come deve condiviso il terreno perché loro hanno questa concezione della legge è molto chiaro per loro però ci sono tante situazioni complicate magari ha un figlio come deve essere condiviso ha due figli e se non ha pagato la muta sa che in Cina può avere solo un figlio e come deve essere condiviso perciò ci sono tanti contenuti nascosti perché la legge in Cina è un po' come una cipolla perché non è una legge uguale dall'inizio alla fine che ogni livello diversificazione della legge è anche molto importante perché in un villaggio è molto complicato la situazione non può basarci soltanto sulla legge nazionale perciò ci sono tantissimi dettagli le regole sono definiti dal popolo stesso e come deve essere pagate le mute tutti questi dettagli ci sono tanti contenuti nascosti e queste leggi e queste regole come stati stilati all'inizio è il secondo caso che secondo me è anche più interessante una proprietà molto ambigua oppure una proprietà molto chiaro qual è la nostra scelta migliore perché io in questo villaggio ho raccolto un po' di documentazione sono dell'affitto del terreno questo contratto non è soltanto dato dal governo centrale è un contratto tra due individui per esempio titolare di una fabbrica che vuole utilizzare terreno di questo villaggio e lui magari questo terreno appartiene a 4-5 famiglie lui deve firmare un contratto di leasing con queste 4-5 famiglie potete vedere origine è questo tipo di contratto A4 poi ci sono impronte digitale di ogni persona poi deve essere avere la firma qua potete vedere che motobufo che in quanti anni può utilizzare questo terreno definito qua c'è scritto lungo periodo cosa significa lungo periodo per contadini il lungo periodo è una cosa perché nella terminologia inglese forever per sempre è lungo termine perché per un contadino significa anche per sempre però non vorrebbe anche essere così chiaro che sia davvero diventato per sempre perché per il contadino questo terreno appartiene sempre al villaggio però dopo 30 anni sicuramente cambierà dopo 20 anni sicuramente ci sarà un'altra cosa diversa però quando firmi questo contratto ci sarà lungo periodo lungo termine perché nel caso che è stata poi confiscato dallo Stato si è diventato dello Stato però in altri casi sarà sicuramente lungo periodo o forse per sempre però non è mai detto su terreno cinese e poi come deve essere ricompensato rimborsamenti tutti questi rimborsi nella tradizione cinese questo tipo di contratto si chiama contratto bianco è informale sono perciò se è un contratto ufficiale dovrebbe essere timbro dello Stato o dell'impero però in questo caso c'è impronta digitale ci sono le firme e maggior parte del contratto sono questo tipo sono tra individui sono privati in realtà non sembra legale però è una realtà che non possiamo ignorare in Cina ci sono case che sono commerciale che sono dei govern altre case che sono della piccola proprietà anche questo è un punto molto caldo in Cina quante case in ogni tipo non sappiamo nessuno quante case veramente appartiene a privato anche qua ci sono dei accordi tra governo con l'organizzazione popolare e il terzo esempio possiamo dire l'attifondista il ritorno dei latifondisti che i contadini sono diventati veramente persone molto importanti perché quando ho fatto questa indagine loro possono ancora vivere nel terreno una volta che hanno affittato questo terreno hanno uno dei soldi non sanno come spendere questi soldi perciò ogni contadino cerca di comprare la macchina migliore o BMW la prima serie perciò nella campagna nella zona rurale sono i migliori ovviamente oppure Volkswagen altri no Jetta qualcosa che su 200.000 RMB e queste macchine come lo usano? magari portano a fare un giro perché non deve lavorare non ha altre cose da fare perciò va in giro così quando non ha più soldi magari fa taxi come BMW oppure Volkswagen lo usano come taxi ogni anno è arrivato un certo momento magari va a raccogliere tutti questi affitti un po' come la di fondista di una volta va a raccogliere i loro affitti perché all'inizio erano tipici contadini tranquilli che hanno ottenuto del terreno oggi sono maggior parte sono diventati latifondisti e moderni questo 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 anche molto ironico è legale è una modo satire molto sarcastica vale la pena di rifletterci su perché abbiamo creato il nostro opposto i contadini non sono più contadini sono diventati latifondisti sicuramente è una satire verso il nostro sistema ovviamente io penso che oggi come possiamo affrontare questo problema di terreno in Cina io penso che antropologi devono anche considerare un confronto di diverse zone del problema di terreno all'inizio abbiamo questo concetto che chi cottiva deve avere anche la proprietà del terreno però da 1924 fino ad oggi siamo ancora continuando questa strada stiamo cercando una nuova riforma ricominciando da capo questa riforma è la velocizzare l'urbanizzazione anche Shunya Tsen aveva detto che il popolo deve avere terreno però noi diciamo di fare sì che i contadini non possiedano più il terreno loro devono vivere nei grattacelli devono vivere la levità dei metropoli della città e questo è il problema secondo me anche un problema di giustizia in quale nome sotto il quale nome diamo giudizio diamo revisione su questa nuova sistema se è veramente il sistema è realizzato la giustizia perché è una giustizia sociale e se è vero questo secondo me è il vero problema alla fine oggi stamattina anche il professor Yang aveva parlato dei cosiddetti casi che cercano giustizia nel governo questa sta piano piano diventano un caso normale perché ci sono tanti contadini ma c'è parte del tempo stanno magari in una piccola zona a Pechino magari aspettano di essere ricevute da ufficiale cinese magari hanno una contadina magari sono nomadi perché il loro terreno sono stati invasi di qualcuno qualcuno perciò per proteggere il proprio diritto è diventata la loro vita quotidiana non c'è una persona che dice che io vado nella corte o lui crede in una persona in un capo in un segretario in una persona non nella corte in generale o si rivolgiasi tutta la legislatura come affrontiamo questi problemi che abbiamo incontrato nella riforma abbiamo un principio basilare che è molto importante che dobbiamo rispettare che chi che cottiva deve avere proprietà di terreno secondo me questa è la cosa più importante più umano perché se non cottivi terreno cosa ti serve averlo allora perciò penso che merita la nostra riflessione poi anche è importante garantire i diritti dei più deboli dei più poveri per qualsiasi ragione che cercano giustizia dal punto di vista della costruzione del sistema legislatura dobbiamo garantire i loro diritti in più ci sono dei villaggi oppure delle zone che il loro valore stanno degradando non abbiamo mai pensato di togliere le passazioni sui contadini e i contadini saranno contenti o pensare che il partito comunista è intelligente però una volta che non deve più pagare queste tasse non hanno hanno perso anche questo legame con il suo terreno perciò potete vedere che non ama più il terreno non ha più dipendenza piano piano ha perso proprio questo valore perciò tanti contadini sono fuori dal villaggio rimane nel villaggio soltanto anziani o bambini non sono più contadini sono tutti persone vecchie o bambini oppure le donne perciò se in un villaggio vuole organizzare un meeting diventa una riunione diventa sempre più difficile perché non cotivano più vendono medicina e fanno altre cose quando il segretario ha detto che dobbiamo fare una riunione sulla esecuzione di una politica lui dice io non ho tempo perché sto in giro a vendere la medicina perciò abbiamo perso anche questo tipo di collettività ha creato anche dei problemi per la stabilità della società anche questo potrebbe causare dei problemi dobbiamo considerare anche questi fattori anche Cesaro Cicerone che è il suo pensiero dobbiamo anche prendere prendere considerazione è una logica del teatro ogni posto è spazio individuale di ogni persona però se tu non occupi più questo spazio perché vuoi che questo spazio appartieni anche a te perciò Cicerone è come una saggista romano veramente molto saggio è uno dei primi che dice chi cotiva deve avere proprio terreno magari tante persone presenti oggi abbiamo dimenticato parliamo ancora un pochino parliamo anche di altri problemi che stiamo affrontando in Cina sono dei estremisti per esempio questo simbolo demolire perché il terreno sta diventando sempre di meno il terreno incottivabile sta diventando sempre di meno e la causa principale è la causa vera sapete che è per interessi del governo però non abbiamo mai considerato interessi del popolo perciò il terreno sarà un'occasione per lo sviluppo futuro potrebbe essere anche una sfida che affronteremo può essere una cosa che ci può causare dei problemi anche Deng Xiaoping aveva dato peso a questo problema perché imprese della zona rurale sta sviluppando velocemente perché non hanno più bisogno di terreno però i nuovi governi stanno facendo altre considerazioni non abbiamo altro tempo per dedicare a questa parte alla fine la conclusione io vorrei solo dare enfasi questi diversi punti la nostra sistema su terreno è stato formato sotto un certo circostanza storica perciò il suo significato culturale e sociale sono molto importanti dobbiamo considerare che il problema principale non è la zona rurale se deve possedere veramente il terreno ma nella sua applicazione del terreno nella gestione degli scambi come garantire i diritti veri della contadina ovviamente non preoccupano più se hanno da mangiare però questo è sempre un limite di valore per loro e poi nella società cinese possiamo vedere che sembra in certe cose sia ambiguo non regolare però se possono garantire che i contadini non diventino dei nomadi della città perciò se nella città non riescono ad avere una vita felice possono sempre pensare ho sempre un terreno da cottivare non è come in Italia oppure in Inghilterra questi nomadi queste persone che vanno in giro e non possono non avere una seconda scelta non possono più non hanno più nessuno posto a ritornarsi quando ho visto l'ultima cena io spero che la nostra riforme oggi non sarà come quella dell'ultima cena ho scritto anche una piccola poesia scritta per Milano volevo leggervelo però il nostro obiettivo di questo viaggio è di andare a vedere una cultura che sia diversa da noi magari di fare diversi confronti possiamo fare dipatito più sui confronti magari nella zona rurale d'Italia qual è la vostra storia di sviluppo magari possiamo anche prendere come riferimento in futuro perché noi siamo in un punto cruciale nello nostro sviluppo possiamo tranne beneficio da entrambe le parti grazie a tutti a tutti